Il tempo nel fine settimana sulla regione sarà ancora governato da correnti nord occidentali in quota veicolate da una profonda depressione sull'Europa centro-settentrionale. In seno a queste correnti corrono alcuni fronti, deboli o al più moderati, uno di questi interesserà la regione nella serata di sabato. Prevediamo quindi per sabato al mattino tempo migliore, con maggiori rischiarite, in genere poco nuvoloso, salvo passaggi nuvolosi dal nord a sud sulla regione. Dal pomeriggio sera aumento della nuvolosità, in serata e nella notte poi possibile qualche ora di deboli precipitazioni, deboli nevecate in montagna, forse del nevischio anche sull'alta pianura. Venti tutto sommato di bora moderati al mattino sulla costa e poi deboli di direzione variabile. Temperature minime stazionari, congelate in montagna e in pianura, temperature più limiti sulla costa, intorno ai 3-5 gradi, massima intorno agli 8-10 gradi. Domenica sarà una giornata migliore dal punto di vista dello stato del cielo, con cielo in genere sereno poco nuvoloso, salvo qualche nube residua il mattino specie verso sud-est. Dal pomeriggio entreranno venti forti da nord in quota, qualche raffica poi successivamente anche nei fondovalle e poi in pianura fin verso la costa occidentale. In serata Borino invece sulla costa orientale Golfo di Trieste. Temperature ancora stazionari con qualche gelata in pianura e gelata invece diffusa a fondovalle in montagna, massime intorno ai 10-12 gradi in pianura a causa del vento, intorno agli 8-9 gradi invece sulla costa. Tempo variabile anche lunedì e poi martedì con qualche precipitazione possibile tra lunedì sera e martedì mattina. Dall'osservatorio metodo dell'ARPA Arturo Puccillo vi saluta.